Ciao, sono Larsen e io sono uno dello sport estremo. Ho appena fatto un'avventura in Amazzonia e lì in Amazzonia c'è una vegetazione che neanche ve la immaginate voi. Liane, mangrovie, gerani, ciclamini, robe mai viste. Allora, a un certo punto devo fare il ponte tibetano, poi c'era anche un tibetano che si faceva sul ponte, poi ho avuto un incontro con gli aborigini, quelli lì che ci vivono dentro l'Amazzonia, ai momenti ci rimango secco, mi hanno passato un tubo, io ho aspirato, era una cerbottana, c'era dentro un dardo così, gli ho detto ma voi siete fuori ragazzi, da noi quando si passa un tubo si aspira, mica si soffia, che storia, eh, vogliono spiegare, però la prossima avventura ve la racconto un'altra volta. Grazie. 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 Grazie.